Esprieco trattamento viso completo Il trattamento al viso completo dura circa 40 minuti e viene fatto in totale relax Pulire con leggeri movimenti viso, collo e décolleté con pura mousse detergente viso Una mousse morbida e vellutata a base di acqua di rosa damascena e succo di aloe Per rimuovere con delicatezza impurità e tracce di trucco I tensioattivi di origine naturale, a base di zuccheri, favoriscono una detersione delicata poiché si adattano perfettamente al pH della pelle, evitando ogni forma di irritazione Passare poi alla pulizia profonda per rimuovere le cellule morte con l'esfoliante Scegliamo Rassul Cleansing Gel, un peeling granulare a base di Rassul e acqua di rosa damascena per pelli delicate Ora la pelle è perfettamente pulita e pronta a ricevere i benefici di un massaggio rilassante e drenante che stimola la microcircolazione e distende i tessuti di viso, collo e décolleté Utilizziamo quindi Serum Purissimo Argan ad alta concentrazione di vitamina E acidi, grassi essenziali, sostanze antiossidanti che contribuiscono a prevenire e combattere il rilassamento cutaneo e a neutralizzare l'azione dei radicali liberi Applichiamo ora Rassul Scrab Mask Come potete vedere si presenta in una pratica confezione monodose che ci permette di utilizzare tutto il prodotto senza sprechi Una maschera sia purificante, indicata per pelli acneiche o seborroiche sia idratante e anti-age, utile per rivitalizzare e prevenire l'invecchiamento cutaneo Grazie alla sua formula specifica a base di Rassul, arricchito con Argan, Jojoba e burro di Murumuru questa maschera è ideata per uno scrub del viso efficace ma non aggressivo adatta a tutti i tipi di pelle Dopo il tempo di posa, che varia da 5 a 10 minuti la maschera viene rimossa con delle spugnette morbide Si andrà poi a tamponare l'epidermide con un batufolo intriso di pura tonico rinfrescante a base di acqua di rosa damascena Infine, a conclusione del trattamento stendere un velo di crema Rigenera Argan con movimenti leggeri Grazie all'innovante azione sinergica di preziosi olii vegetali come l'Argan l'olio di semi di fico d'India e l'olio di rosa moscheta questa crema agisce efficacemente sull'epidermide con una mirata azione ricompattante e strutturante Ora la pelle è sicuramente più chiara, luminosa, vellutata e ben idratata Il trattamento al viso completo viene fatto non più di una volta alla settimana In seguito per il mantenimento è utile fare tutti i giorni o a giorni alterni il peeling delicato con il cleansing gel e quindi direttamente l'applicazione della crema Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!